ciao luci oggi vi faccio questa bella video recensione direi ricchissima video recensione di filati ice yarns quindi targati italia artisan voi sapete che quando si tratta di ice io acquisto sempre da italia artisan perché la mia amica francesca mi trovo bene in quanto è cordiale mia mi segue molto nell'acquisto dei miei filati quindi se ho delle perplessità se non sono sicura che il filato che ho adocchiato sia adatto al mio progetto mi sa indicare la via giusta e quindi io acquisto sempre da italia artisan e voi sapete che appunto quando parlo di ice è sempre italia artisan ora vi faccio vedere uno ad uno questi bellissimi filati che saranno protagonisti del nostro autunno inverno alcuni li avete già visti lavorati e siete in attesa quindi dei relativi tutorial altri sono proprio delle novità per le mie followers perché ovviamente non li ho ancora lavorati e quindi li vediamo insieme ora per la prima volta quindi direi che passiamo al primo filato il primo filato non poteva che essere lui guardate qua allora questo bellissimo filato non ho più il gomitolo perché l'ho lavorato tutto per il mio ultimo tutorial che è il bactus coccola e l'ho lavorato ai ferri ed è questo bellissimo filato che si chiama mystic o mystic poi vedete voi dove volete mettere gli accenti è un bellissimo filato non posso parlarvi più di tanto di questo filato perché appunto non ho più il talloncino però se siete interessati io intanto vi faccio vedere la lavorazione ai ferri di questo bellissimo filato quindi le sue sfumature i suoi colori però non volevo non parlarvene anche se non ho più il talloncino perché obiettivamente è un filato guardate qua di una morbidezza infinita io l'ho lavorato con i ferri numero 9 ma viene bene anche con i ferri dell'otto e con l'uncinetto ovviamente richiede un uncinetto molto grosso io l'ho lavorato con i ferri perché volevo comunque una morbidezza in più voi sapete che i filati tutti i filati lavorati ai ferri rimangono più morbidi che lavorati all'uncinetto quindi volevo raggiungere proprio questo effetto di morbidezza però non volevo non parlarvene perché veramente bellissimo comunque se volete le caratteristiche di questo filato comunque troverete tutti i link in descrizione quindi vi lascerò anche il link di questo nello specifico ora passiamo al secondo filato il secondo filato di cui vi voglio parlare è questo ne avevamo già parlato forse nella scorsa stagione forse in un'altra recensione e l'avrete visto perché ho realizzato con questo filato la mia maglia virus guardate che belle sono le sfumature sembra quasi metallica la sfumatura di questo filato questo filato è il soft chain wool e vi dico che allora la sua composizione è data da 30 per cento lana 55 per cento acrilico 15 per cento poliamide ogni gomitolo è da 50 grammi per 120 metri se non erro è venduto in lotto da 8 gomitoli spero di non sbagliarmi perché purtroppo questo l'ho usato tempo fa e non ho più la confezione ma mi sembra che fossero 8 gomitoli comunque veramente quindi un lotto da 400 grammi i ferri consigliati sono ferri uncinetto 4 mm e è considerato un filato medio ecco perché se vedete qui c'è il gomitolino col numero 3 quindi questo ve lo consiglio sia per morbidezza sia per la colorazione ce ne sono tante altre molto belle sia perché ha comunque una buona resa e io mi sono trovata bene ho filato molto caldo molto morbido va bene anche per realizzare capi da bimbi perché non pizzica è molto liscio e si adatta bene per cui anche per le realizzazioni per bimbi passiamo al prossimo filato ecco qui cosa dire di questo sfumature stupende veramente stupende allora questo filato si chiama angora print prima vi dico le caratteristiche allora un 20 per cento angora 20 per cento lana 60 per cento acrilico ogni gomitolo è da 100 grammi per 530 metri ferri consigliati il 3 vi dico la verità io ho usato il 3 mezzo 4 se non sbaglio per questo filato ed è un filato come grandezza sul gomitolino mi dà il 2 quindi è un filato un pelino più sottile per esempio del soft chain bull che vi ho fatto vedere prima quindi la colorazione la vedete stupenda quindi a questa bella colorazione che va dal bianco panna non è proprio un bianco bianco e poi c'è questo bellissimo carta da zucchero il grigio e si va a questo è tra il sabbia e il nocciola una via di mezzo comunque bel colore chiaro e con questo sto realizzando lo scaldacuore che le amiche del gruppo creando con luci franci sicuramente ricorderanno in questo momento non ce l'ho qua da farvelo vedere perché avrei voluto farvi vedere anche la lavorazione ma non ce l'ho qui in questo momento e quindi vi faccio vedere solo il gomitolo molto bello anche questa è una bella resa il lotto è da 400 ogni lotto è da 400 grammi quindi quattro gomitoli e devo dire che anche questo è veramente stupendo e ve lo straconsiglio non è pelosissima come angora vedete che non non è molto pelosa a volte i filati troppo pelosi poi non si possono lavorare con uncinetti troppo piccoli in quanto si incastra io devo dire la verità ho dovuto disfare un pezzettino della maglia che sto facendo e non ho avuto grandi difficoltà come le angore un po più pelosette mi sono trovata molto bene anche in quel caso sapete comunque che di solito angora mohair e i filati pelosi sono un po difficili poi da disfare perché essendo pelosi si incastra il filato nel nel pelosetto del appunto del filato e quindi potrebbe essere difficile poi disfare un lavoro fatto con questo tipo di filati passiamo al prossimo il terzo filato che vi faccio vedere è questo bellissimo guardate che bello un bello come si dice bello spesso bello bello pelosino ma non da dar fastidio guardate che bello anche il colore in questo caso è un bel colore tra il borgogna non si capisce bene comunque un bel violaceo è questo filato si chiama wool cord aran non l'ho ancora usato quindi non ho una lavorazione da farvi vedere ma vi dico che è un 50 per cento lana e un 50 per cento acrilico ogni gomitolo da 50 grammi sono 100 metri ferri così consigliati 45 mm è un bellissimo filato molto morbido e molto caldo allora come morbidezza non è come potrebbe essere questo ecco ma come molte di voi stanno la percentuale di lana all'interno di un filato lo rende un po più diciamo grezzo per esempio questo sicuramente a una percentuale di lana inferiore infatti questo al 30 per cento questo 50 quindi più si sale con la percentuale di lana all'interno del filato più un pelino si perde in morbidezza non dico che sia sempre così ma nella maggior parte dei casi la lana tende ad ingrezzire un attimino il filato però vi dico che mi piace tantissimo questo filato ci farò sicuramente un bel progettino quindi era solo per specificare che è molto morbido ma mettendo la confronto con filati che hanno dentro una percentuale più alta di sintetico sono leggermente leggermente diversi come morbidezza altrettanto comunque alla sua morbidezza e non è non è un filato non morbido anzi e lo vedete anche dal gomito lo vedete come è bello diciamo che al tatto risulta un po più ruvidino di appunto o come esempio vi ho messo questo che è molto molto liscio passiamo al prossimo filato ecco qua abbiamo qualcosa con l'urex e questo l'urex devo dire che è molto particolare guardate che bello che è questo filato prima vi faccio vedere vediamo se si vede con la luce ecco guardate il l'urex all'interno di questo filato non è il classico l'urex argento o oro ma è verde guardate che bello il l'urex verde vediamo su colori chiari tende a sembrare quasi blu sui colori chiari è un l'urex verde molto cangiante questo filato molte di voi l'avranno riconosciuto perché un filato tra quelli molto usati molto usati ed è angora color glitz allora i ferri 3 4 mm io per questo che ho già usato per un progettino usato il l'uncinetto del 4 e vi dico che è la sua composizione 40 per cento angora 52 per cento acrilico 8 per cento l'urex la mia colorazione è il grì e il green addio l'inglese per me è un problema shah 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 non lo so non oso addentrarmi in questo in questo ginepraio di pronuncia quindi mi fermo qua e vi dico che un gomitolo da 100 grammi e 550 metri è veramente una misura importante vi faccio rivedere il colore stupendo guardate qualche roba a me piace da morire questo questo filato no allora l'ho già usato per un progetto non mio l'avevo usato per fare e un battus di appunto francesca italia artisan bellissimo fatto con l'uncinetto turi tunisino mi sembra poi ve lo scrivo sotto metterò il link anche del suo del suo progetto perché non lei non l'ha fatto con questo filato ma io ho provato a farlo con questo filato e viene un amore quindi vi metterò anche in descrizione il link del appunto del tutorial di italia artisan con cui ho usato questo filato passiamo al prossimo ecco qui questo qua è bellissimo ho finito oggi un progettino con questo ed è quello che le amiche del del mio gruppo avranno riconosciuto nel nel poncio che ho fatto vedere sul gruppo stamattina e questo qua vi dico che è pure alpaca light ed è 25 per cento alpaca 50 per cento lana merino e 25 per cento acrilico 50 grammi sono 175 metri ferri consigliati 4 mm io in effetti ho usato un uncinetolo e 4 mm guardate qua che bella questa questo questo beige è un beige che da molto più sul grigio che sul beige è che è un beige molto spento ed è melangiato non è proprio un colore piatto ha in sé vedete non è proprio è leggermente melangiato quindi veramente 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 bello anche questo avendo dentro molta una percentuale molto alta di alpaca e di lana a un diciamo è morbido ma non risulta liscio come filato rimane un po un filato un po grezzo è molto secondo me adatto per ponci per capi d'abbigliamento tipo stole mi piace a me questo filato piace veramente tanto e appunto lo vedrete lo vedrete nel in uno dei prossimi tutorial perché ho finito oggi il progetto e voi sapete che io registro il suo campione e di conseguenza uscirà a breve il tutorial nel quale uso ecco questo filato passiamo al prossimo cosa dire di questo di questo io vi posso dire solo che ci sto facendo un progetto che vi mostro in questo momento ed è un filato veramente morbidoso e anche molto grosso guardate qui quanto è grosso questo filato molto molto bello questo filato si chiama cakes felting wool la particolarità la particolarità di questo filato che è un 100% lana non ha dentro neanche una briciolina di acrilico è che si presta molto bene ad essere infeltrito quindi per i progetti che richiedono ecco la lana infeltrita quindi può essere tranquillamente usata per quel tipo di lavorazione una cake è da una cake è da 100 grammi per 100 metri ferri consigliati 7 8 io adesso vi faccio vedere la lavorazione col 9 perché io sto facendo un progetto ai ferri con i ferri del 9 guardate qua che meraviglia ecco qua ecco qua e vedete col 9 rimane la maglia leggermente più wariosa molto molto soffice ripeto però sempre più alta è la percentuale di lana e in questo caso è un 100% lana più al tatto risulta meno liscia dei filati che hanno all'interno una percentuale di acrilico ci tengo sempre a ribadirlo perché il morbido della lana è diverso dal morbido dell'acrilico io non vorrei che poi non vorrei essere fraintesa quando vi dico è morbidissimo certo è morbidissimo tenendo conto però di quanto può essere morbida la lana perché l'acrilico ha una morbidezza la lana ha un altro tipo di morbidezza quindi è per questo che io in tutti i filati dove c'è un'alta percentuale di lana vi sto dicendo non aspettatevi il filato come si dice questo vi faccio vedere la differenza guardate già tra questo e questo questo è una nuvola di morbidezza ma è un acrilico quindi ci dobbiamo aspettare una morbidezza diversa ma entrambi sono morbidi solo hanno una morbidezza che è totalmente diversa uno dall'altro quindi non voglio dire che questo è meglio e questo no oppure questo è meglio e questo no sono due cose diverse però siccome non vorrei essere fraintesa non vorrei che poi chi lo compra dice cavolo mi aspettavo una cosa morbidissima ok una cosa morbidissima per quanto riguarda la lana e una cosa morbidissima per quanto riguarda l'acrilico sono proprio due cose diverse la lana 100% non potrà mai avere la stessa morbidezza dell'acrilico e viceversa quindi poi dipende da cosa si preferisce ecco però vado avanti a parlarvi di questo perché questo nel lotto nell'otto ci sono tre di queste cakes quindi troverete 300 grammi all'interno dell'otto ecco degli altri non vi ho detto che questo qui appunto troverete 8 gomitoli quindi 400 grammi perché sono da 50 in questo anche troverete 8 gomitoli perché sono da 50 anche in questo troverete 8 gomitoli in questo e questo troverete 4 gomitoli sono tutti pacchi da 400 grammi vedete questo sarà uno dei prossimi progetti che andremo a vedere adesso non vi svelo ancora che cosa sarà però sarà qualcosa di interessante volevo farvelo vedere lavorato e quindi ecco qua questo è il vi ripeto il nome ma vi lascio tutti i link in descrizione è Kicks Felting Bull molto molto bello vedete il gomitolino qua se riuscite a vederlo infatti qua al gomitolino ha il numero 6 perché comunque penso che faccia già parte della categoria dei bulchi quindi dei filati molto molto grossi passiamo al prossimo perché ne abbiamo tantissimi oggi con questo devo dire che ho osato aspettatevi un progettino nero ho osato perché i colori scuri i progetti con i colori scuri sono sempre un po' azzardati però io volevo lavorare qualcosa di nero e devo dire che ho scelto bene ho scelto bene perché questo filato è molto morbido e veramente molto bello guardate leggermente è il pelosino vediamo se si riesce a vedere poi la pelosità dalle mani vedete io spero si capisca è il pelosino ma non eccessivamente ecco non quel pelosino che dà fastidio questo filato si chiama allora britz alpaca e come ferri da i 3,5 mm è un filato sottile perché dà come finezza un 2 è un 50 grammi per 350 metri quindi una bella insomma metratura ed è 20% alpaca 40% lana merino 10% moer e 30% acrilico veramente ha una percentuale di acrilico bassissima nonostante questo ecco tra tutti quelli che ho menzionato finora questo è quello con la percentuale di lana più alta a parte questo che era un 100% ma che dà una morbidezza molto simile all'acrilico ecco questo sì ha proprio una morbidezza molto molto se devo dire tra questo e questo e questo e insomma tra questi tre per esempio questo qua io è quello che trovo molto più morbido molto più liscio e molto più morbido mi piace moltissimo con questo non so ancora cosa ci farò ma sicuramente qualcosa di interessante e soprattutto sapete che tutto quello che vi sto facendo vedere oggi io ve lo consiglio perché toccandolo con mano mi sono resa conto proprio che ha una composizione e una morbidezza e comunque delle caratteristiche che a me piacciono io ovviamente quando faccio le recensioni vi faccio vedere solo ciò che mi piace quindi se io dovessi comprare un gomitolo che non mi piace io non vi faccio la recensione perché non mi sento di farvi vedere qualcosa che effettivamente non mi piace ci può stare pur piacendo un marchio può anche essere che ci sia qualche filato che piaccia di più e qualche filato che piaccia di meno quindi tutto quello che io vi faccio vedere è quello che io ho trovato assolutamente di mio gusto quindi non vi faccio vedere quello che a me non piace non ne ho ancora trovati sono non ne ho ancora trovati che non mi piacciono però di ice devo dire la verità però comunque questi sono quelli che vi raccomando passiamo al prossimo filato beh visto che ve l'avevo già fatto vedere per fare il confronto con l'altro vi faccio vedere questo io penso di non aver mai visto un sintetico così lucido e così liscio è molto molto morbido molto molto liscio guardate qua vi faccio vedere da questo lato perché dall'altro è ci sono i fili tirati quindi si vede un po' meno guardate che bella la sfumatura di questo parte da quindi l'interno è come questa riga qua di questo caramello poi va sul grigio ma è un grigio tra il perla e il marroncino poi diventa un cremino marrone grigio scuro e poi torna il caramello vedete e fa proprio tutto questo giro di sfumature molto molto bello questo filato si chiama cakes aran ed è un 100% acrilico per quello vi facevo la proporzione prima con la pura lana proprio per farvi capire che sono due morbidezze diverse ecco la pura lana ha una morbidezza un po' più grezza mentre l'acrilico ha una morbidezza un po' più raffinata diciamo ma neanche raffinata non nel senso di raffinatezza ma raffinata nel senso di lavorata e quindi lavorata in modo che sia molto lucida molto insomma abbia delle caratteristiche totalmente diverse dalla lana ogni cake se vi dico che l'otto ne contiene due è da 200 grammi per 360 metri ferri consigliati 4 5 vedete il gomitolino presente qua dice che è un filato con spessore 4 quindi comunque già uno di quelli belli spessi guardate prendo in mano il filato vi faccio vedere che effettivamente già bello spesso non è molto ritorto questo filo e può avere le sue può avere la sua insomma positività il fatto che non sia molto ritorto di fatto non è molto ritorto perché vedete se io faccio così si dividono i fili non è molto ritorto ecco in questo caso io devo dire che preferisco che sia così perché mi dà probabilmente durante la lavorazione un senso di come se fosse più liscio più morbido non lo so poi va a gusti però ci sono filati che io preferisco molto ritorti ci sono filati che per la lavorazione per cui vado a sceglierli preferisco che siano così molto meno ritorti ci tengo a dirvelo proprio perché fa parte delle sue caratteristiche non è un filato molto molto ritorto ora passo a un filato che io probabilmente vi avrò già fatto vedere in una recensione ma io penso che sia in assoluto uno dei miei preferiti e non faccio neanche lo stacco lo vado a prendere direttamente eccolo qua guardate ecco questo è uno dei miei filati preferiti guardate che bello che è e questo qui è il mirage color l'avete già visto anche in vari tutorial questo filato perché penso che di questo tipo di filato quindi di questo come si dice di questa qualità di questo genere di filato quindi di questo come dire no la marca è la stessa quindi è di questo filato ecco basta mi fermo di questo filato io mi impapero e poi tanto non farò neanche tagli di questo filato questo filato l'avete già visto lavorato in vari tutorial e di questa colorazione oltretutto perché penso che sia veramente qualcosa di spettacolare infatti io l'ho comprato penso a giugno luglio perché lo trovo sempre esaurito questo filato di questa colorazione perché veramente va a ruba è morbidissimo e l'ho visto lavorato nei vari tutorial devo dire la verità veramente rende benissimo con qualsiasi lavorazione veramente molto bello e vi dico che è aspettate che ho sotto sopra 50% lana 50% acridico 100 grammi sono 300 metri ferri consigliati 4 mm lo spessore del filato è un numero 3 guardate qua è bello grossino ma non eccessivamente infatti io penso che i ferri consigliati siano assolutamente quelli che consiglierei anch'io perché mi sembra giusto il consiglio che dà l'etichetta anche questo è ripeto è lana 50 e 50 quindi comunque alla morbidezza della lana non punge ma anche gli altri non pungono non hanno la morbidezza del dell'acrilico 100% perché l'acrilico vi ho spiegato la differenza ma nessuno di quelli che vi ho fatto vedere punge quindi tutte queste lane che vi ho fatto vedere assolutamente non pungono hanno composizioni diverse ma non pungono questo qua ha dentro molto più sintetico quindi lo lascerei fuori ma non pungono assolutamente quindi tutti questi filati non pungono anche se hanno morbidezze diverse quindi se comunque non vedete non è un filato lucido questo però se dovessimo prendere tutti i filati lucidi i nostri capi verrebbero tutti uguali e quindi ci sta è proprio una nuvola questa colorazione è stupenda e non posso dire altro ma proprio non si può dire altro di questo filato è il mio preferito in assoluto non l'ho ancora usato perché sto aspettando il progetto chicca cioè quello che dici questo è quello apposta per questo filato e quindi non l'ho ancora usato ma ci siamo quasi arriverà vi sto per fare vedere vi sto per fare vedere altri due filati che allora uno è questo ve l'avevo già recensito ma voglio rifare la recensione perché penso proprio che meriti e non vorrei che fosse passata un po' inosservata la recensione di questo filato perché mi dispiacerebbe è molto molto bello guardate la colorazione è di un bellissimo bianco panna con dentro queste macchioline rosa azzurre gialle rosa verdi gialle blu violette insomma dentro queste varie punte di colore queste sporcature di colore ed è un filato veramente bellissimo questo è il baby merino deluxe allora il baby merino deluxe è spettacolare perché è apposta per i bimbi se dovete fare un capo per bimbi questo è il filato giusto e arriverà anche il suo momento ve lo garantisco non l'ho ancora usato perché ci sono dei filati veramente che quando li guardo dico devo trovare proprio il progetto che mi piace tanto 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 perché sono filati che magari mi piacciono particolarmente e quindi voglio essere sicura di valorizzarli quanto meritino e quindi non non ho fretta di usarli ecco aspetto mentre ci sono filati che mi piacciono ma sono adatti un po a tutti i progetti per quanto mi riguarda ci sono filati invece che mi piacciono talmente tanto che ho bisogno è proprio dell'ispirazione per magari poi è un progetto semplicissimo ma non mi è ancora arrivata l'ispirazione quindi non l'ho ancora usato ma lo userò sicuramente a breve anche perché sto iniziando con i progetti per bimbi e questo è un filato che per bimbi è spettacolare allora il gomitolino guardate come sono piccini piccini questi gomitolini allora 50 grammi 150 metri sono piccini ma vi assicuro che non hanno una buona resa è piccino il gomitolo perché è sottile il filato allora la composizione è 40 per cento lana merino 60 per cento premium acrilico essendo più acrilico che lana infatti questo filato è molto più liscio di altri filati ripeto varia sempre da lavorazione a lavorazione del filato però tra tutti questo è in assoluto il più liscio che vi ho fatto vedere fino ad ora quindi morbido soffice liscio non pizzica e assolutamente adatto ai progetti per bimbi ma ve ne faccio vedere un altro che ed è l'ultimo non vi credo deluderà perché è questo allora pur essendo un filato che io considero estivo per la sua pesantezza lo consiglio proprio adesso per la mezza stagione perché d'estate ritengo che proprio il peso specifico del filato sia secondo me un po eccessivo mentre adesso che siamo incontro alla mezza stagione è assolutamente il filato adatto e anche per l'inverno tanto sapete che le nostre creazioni uncinettose sono tutte forellate e sotto qualcosa ci si deve mettere sempre quindi va benissimo anche per l'inverno questo filato questo bellissimo blu navy guardate che bello che è ve l'avevo già fatto vedere anche in un'altra recensione ma anche questo meritava di essere ripresentato è il bambù viscose userò a breve anche questo ed è un 50 per cento bambù e 50 per cento viscosa sapete vi ho già parlato dell'altra traspirabilità del bambù filato assolutamente naturale e in questo caso troviamo anche una percentuale di viscosa che lo rende molto molto lucido ma vi assicuro che anche il 100 per cento bambù sembra seta allora vi dico che un gomitolo e mi sembra che questo sia venduto in lotti da 4 gomitoli comunque io vi lascio tutto in descrizione quindi poi andate a controllare quindi 4 gomitoli da 100 grammi per 230 metri quindi comunque una buona resa i ferri consigliati 3-4 mm il filato penso sì che si possa lavorare tranquillamente col 3-4 mm anzi io direi 3,5 io lo lavorei con un 3,5 questo è molto molto bello poi dipende sempre da come volete voi che risulti la lavorazione più ariosa meno ariosa volete che sia più forata, più morbida, più stretta lì poi va a gusti e alla vostra mano io direi che guardate qua, ve li rimetto qua tutti guardate qui che meraviglia vi ho fatto vedere oggi c'è proprio un tripudio oggi di filati guardate qua, chi più ne ha più ne metta non mi ci stanno neanche tutti nell'inquadratura tanto sono belli ecco qua, ne manca uno e non me lo faccio scappare, eccoli qua tutti i miei bei filatini vi invito sempre con questo tripudio di filati eccoci qua ad andare a visitare lo Shop Italia Artisan a contattare Francesca anche su Facebook o tramite Messenger nel caso aveste bisogno di più informazioni sui filati aiuto sull'acquisto, consigli, perplessità lei è sempre molto disponibile e carina a rispondere alle vostre domande anche per consigliarvi nel caso non sappiate quale filato sia meglio per il vostro progetto lei è sempre molto molto carina e disponibile io vi do appuntamento al prossimo tutorial che sarà brevissimo a brevissimo uscirà il prossimo tutorial e per ora questi sono tutti i miei voi andate a comprarvi i vostri ciao ciao da Luci baci 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 Grazie.